Anche per la presidente Giorgia Meloni è tempo di estate. Il presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ha deciso di staccare un po' la spina e di prendersi una pausa a Forte dei Marmi. Ovviamente la Meloni ha scelto un luogo in particolare dove trascorrere il suo tempo libero e i paparazzi si sono letteralmente scatenati una volta venuti a sapere quale sarebbe stata la metà. La passione di Giorgia Meloni per Andrea Bocelli è nota a tutti, Giorgia infatti è una fan accanita. Tra i due c'è una forte amicizia, che dura da ormai diverso tempo. Il giornale, oggi, annuncia che il premier si concederà i pochissimi giorni di vacanza a sua disposizione al Bagno Alpe Mare, lo stabilimento a Forte dei Marmi di proprietà di Veronica Berti. Moglie di Bocelli, con la quale la Meloni ha un ottimo rapporto, di grande intesa e complicità, come riportato da Alberto Dandolo sul rotocalco. Ovviamente, essendo una meta molto conosciuta, non mancheranno i paparazzi, pronti a riprendere le vacanze della leader di Fratelli d'Italia.